ed eccomi qua pronto per iniziare questa avventura finalmente il paese del sollevante in giappone mi aspetta qua c'è lo zaino nella mia attrezzatura fotografica qua ci sono io ciao a tutti seguitemi in questo viaggio tempo d'attesa di nate si mangia a tutti a tutti Sì, sì, sì. ad Amsterdam c'è anche uno stand della Lego ed ecco finalmente il gate E19, volo per Narita e la e 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 eccomi finalmente arrivato all'hotel best west nishikasai questa qua è la struttura e questa qua è la strada che arriva dalla stazione di nishikasai e e finalmente sono in camera e questa è la camera due metri per due veramente veramente molto easy questo qua è l'ingresso e qui c'è il bagno che aspetta che poi si apre si accende è carino con una vasca tipica giapponese ecco il bagno che ha anche i comandi bene questo è tutto ciao ciao a tutti vedete sono arrivato finalmente a tokyo e adesso sono qua in stanza mi sono riposato un pochino dopo le 16 ore in volo tra scala e tutto e adesso vado a vedere finalmente la città esco tra poco e penso di andare subito a fare una visita al Meiji Jingu ecco mi è arrivato all'ingresso del parco Yoyogi ovvero dove c'è il santuario Meiji qui ecco l'ingresso del Meiji Jingu lo so invece quindi vedete il centro è un centro un centro di un centro di un centro di un centro di di Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.